... Queste elezioni segnarono la fine della carriera politica di De Gasperi e l'emergenza di una nuova forza stabile nel panorama parlamentare italiano, quella delle destre e dei neofascisti in particolare, che ottennero in totale il 12,7% dei voti. La legge truffa non aveva dunque risolto i problemi riguardanti la stabilità governativa. L'anno dopo venne infine abrogata. Nei sette mesi successivi alle elezioni, quattro presidenti del Consiglio democristiani formarono altrettanti governi, alla ricerca di una formula politica che consentisse loro di governare il paese. Ma la seconda legislatura del dopoguerra, che durò fino al 1958, non avrebbe visto emergere alcuno statista della capacità e della forza di carattere di un De Gasperi o di un Einaudi. I maggiori problemi del paese continuavano a restare irrisolti. Il governo della cosa pubblica era in mano ai singoli ministri e ai presidenti degli enti autonomi, che disponevano di un assoluto potere indipendente. Anche il Parlamento svolgeva un ruolo subordinato. Non esisteva alcuna procedura per costringere i ministri a rispondere del loro operato. Cosicché, gli stessi ministeri divennero feudi di un potere indirizzato a soddisfare innanzitutto gli interessi del partito. Nel 1956, con l'invasione dell'Ungheria e le denunce di Khrushchev al ventesimo congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica contro il mito di Stalin, le sinistre italiane subirono dei profondi rivolgimenti. I socialisti ruppero il patto d'alleanza con i comunisti e ciò contribuì a rendere meno profondo il distacco fra i partiti di centro e quelli della sinistra. Iniziò quindi a stabilirsi un dialogo tra la democrazia cristiana e il partito socialista italiano. Dialogo che caratterizzò gli anni successivi, quando l'Italia cominciò a spostarsi a sinistra. Mai come quest'anno, il dibattito sulla festa della riparazione è stato lungamente dibattuto e dai commenti controversi. Chi ci ha seguito ha potuto ripercorrere dai filmati del documentario di Giorgio Boca fatti ed eventi che portarono alla liberazione d'Italia. Fra poco, anche il nostro filmato della cerimonia rievocativa tenutasi come ogni anno a Teramo per il 58esimo anniversario al motto voluto dagli organizzatori che oggi deve essere ancora forte l'impegno a non rendere i vani il sacrificio spesso estremo dei tanti che hanno creduto nei valori della democrazia, della libertà e della pace. Ma nel nostro piccolo vogliamo permetterci un inciso, una riflessione, almeno rifacendoci all'appello dei presidenti di Camera e Senato, Cassini e Pera, perché questa giornata sia la festa di tutti perché condividiamo i morti non hanno casacche politiche specie di questi tempi in cui gli orrori e le morti di una guerra che abbiamo vissuto in televisione sono ancora impressi nei nostri occhi. Queste immagini che vedete si riferiscono ad un evento celebrato proprio a Teramo dove una strada ricorda anche le foibe. Sono le testimonianze di sembra i giusti, torti e deprecabili morti delle fobie di una guerra. Se è vero che parte del centro-destra a 60 anni di inistanza ma al sopporto a questo giorno se hanno suscitato risentimenti e discussione le parole contro le sinistre del Premier Berlusconi mentre il Capo dello Stato quest'oggi e per la prima volta ha celebrato la festa della liberazione nel cortile d'onore del Curinale possiamo interpretare la riflessione della maggioranza di noi che si augura prevalgo oramai il buonsenso perché questo 25 aprile possa per davvero un giorno diventare una festa di pacificazione una festa in grado di mettere sullo stesso piano i fascisti che si schierarono con i nazisti e i partigiani che combatterono la dittatura con le armi. Ci piacerebbe poterli insomma dimenticare una pagina di sangue brutta della storia d'Italia mai il sacrificio di quanti persero la vita certamente per poter veramente cullare quella speranza di un futuro migliore di pace e libertà. giù viene il porto meno male c'era il plug Archie del Cretcio che speranza e lui brutta del autore delle attungalare lescate di un Ville fik exceptions che è subito d unemployment non il il Grazie. 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 Grazie.